Vincenzo Barone di Modica out per la gara di ritorno del primo turno di Coppa Italia di promozione tra Modica e Atletico Scicli. La partita infatti potrebbe giocarsi soltanto a porte chiuse per l'inagibilità dell'impianto. Questa soluzione però non sarebbe gradita alla società Rosso-Blu che sta valutando due alternative. Disputare la partita sabato a Rosolini oppure domenica a Ragusa per poter permettere ai tifosi di assistere alla seconda uscita ufficiale della squadra. L'inagibilità del Barone è strettamente connessa al cambio di gestione dell'impianto di proprietà dell'ex provincia regionale. La gara per la gestione, come è noto, è stata vinta dall'associazione Vitality. Gli atti però sono stati impugnati dall'associazione sportiva Irone, seconda in graduatoria. Questo di fatto ha bloccato l'iter in attesa che i funzionari dell'ex provincia decidano cosa fare in merito a questa situazione. Il nuovo gestore tra l'altro deve corrispondere alla federazione gioco calcio la tassa per l'omologazione del manto erboso, un'incombenza necessaria affinché si possa ottenere l'agibilità. Ma fino a quando non sarà scelto il nuovo gestore, nessuno pagherà questa tassa. Ma perché l'impianto possa ospitare il pubblico in tribuna, sarebbero necessari altri adempimenti da parte del gestore, adempimenti che potrebbero richiedere tempi non proprio brevi. Il rischio è che il Vincenzo Barone possa essere utilizzato, come sta avvenendo in questi giorni, solo per gli allenamenti. Se a questo si aggiunge l'inagibilità del Caetina e i tempi lunghi per eseguire le opere necessarie a rendere fruibile lo stadio intitolato a Pietro Scollo, si ha purtroppo la netta percezione di una situazione assolutamente precaria, frutto anche della scarsa attenzione che la pubblica amministrazione ha avuto in questi anni verso l'impiantistica sportiva in città. Grazie a tutti.